Nuova puntata del Vallo Perduto, questa volta con il regista Roberto Pancella andremo alla scoperta dello sport perduto in alcuni paesi dell'area nord del Vallo di Diano. Andremo a Sant'Arsenio dove un palazzetto concluso da due anni e i lavori per il quale sono iniziati circa dieci anni fa, dopo che una grande nevicata aveva distrutto il precedente palazzetto dello sport, risulta essere chiuso e ancora servirà del tempo per poterlo aprire. Non solo, all'interno di questo palazzetto già concluso ci sono delle infiltrazioni di acqua. Da Sant'Arsenio poi andremo a San Pietro Altanagro per vedere a che punto sono i lavori, se ci sono stati, sul campo di calcio di San Pietro Altanagro già visitato dalla nostra trasmissione nello scorso anno. Ebbene, purtroppo, nulla è stato fatto, anzi, la situazione, soprattutto all'interno degli spiegatoi, possiamo dire che è peggiorata. Poi andremo anche a Polla per capire come lo sport perduto può essere anche colpa della burocrazia. Insomma, una nuova puntata della trasmissione di Italia 2 che va alla ricerca di luoghi e storie perdute per denunciare quanto si poteva fare e non è stato fatto. Questa sera, dopo il telegiornale di Italia 2 e anche su tutti i canali social di Italia 2 TV e del Vallo Perduto. Un appuntamento da non mancare.